Fino a qualche mese fa era considerato un impianto di eccellenza, poi subito dopo che se ne è occupata l'autorità nazionale anticorruzione di Cantone, il sito di compostaggio di Salerno ha iniziato a rivelare tutte le sue criticità. Un mese fa la prima avvisaglia, con un braccio di ferro tra comune e società di gestione, e già si parlava di rescissione del contratto. Poi ieri la decisione è arrivata direttamente dalla regione Campania, che ha revocato alla Daneko, la società di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti, tutte le autorizzazioni. Il provvedimento si basa sulla mancanza di copertura assicurativa. Per 45 giorni, dunque, la gestione resterà in capo alla Daneko, che potrà impugnare l'atto, poi passa direttamente nelle mani del comune di Salerno, che ora dovrà individuare un nuovo gestore. Dopo il vertice in prefettura tra l'assessore all'ambiente, Angelo Caramanno, e i sindacati, si valuta l'opportunità di passare l'impianto a Salerno Pulita, la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti, salvaguardando il lavoro dei 15 dipendenti dell'impianto. Intanto, all'inchiesta di Cantone potrebbe seguire presto anche quella dei magistrati salernitani. Sulle attività del sito di compostaggio pesano molte ombre. Da tempo l'impianto non rispetta i parametri funzionali, e la stessa Salerno Pulita è già nel mirino dell'anticorruzione, che vuole fare luce sui compensi dei componenti della commissione di collaudo e su una variante in corso d'opera di 3 milioni di euro, che forse non era necessaria. Si configura dunque un danno erariale che il comune è comunque chiamato a chiarire, a prescindere da chi gestirà da oggi in poi l'impianto di compostaggio.